Un grande successo la due giorni dell'Omaggio Fest organizzato al Parco del Castello. Un evento che si è svolto il 30 e il 1 maggio, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Immagina con la partecipazione attiva di molte realtà del territorio, l'Arci, Abitare Insieme, CSV, AQ, Comunità 24 Luglio, Fraternatao, Movimento Celestiniano, Locomotiva, Bibliocussa, AQ, OIP, AUGL, CGL, Aquilasmus e Rosso d'Aquila. Un programma ricco di tantissime iniziative, non solo musica. In particolare dentro l'Editorium lo spettacolo Le Esperienze di Incantatore che ha avuto un grandissimo successo di pubblico di Noce Moscardi, Banana, Maria Pucci, Pezzopane e Mattia Ferella. A presentare Vanni Biordi, voce simbolo dell'emittente Radio L'Aquila 1, media partner di questa iniziativa. Tantissime persone hanno partecipato a questa iniziativa che per due giorni ha rivitalizzato e portato in centro tantissime persone, un'Aquila Viva, che sempre più si nutre di queste iniziative grazie a volenterose associazioni. Grazie a tutti.